buonasera a tutti grazie ancora per questo grazie per questo thinking varese è la seconda volta che vengo l'altra volta c'era tanta neve questa volta una giornata meravigliosa la cosa importante è che ci sono degli amici e dei bravi architetti che che sono con noi che ci siano anche questa volta ci sia tantissimo pubblico e sono grato sono molto grato per questo fa anche un po emozionante se devo dire la verità e brevemente presento verner ciò dicendo che io ho conosciuto ciò ormai posso parlare anche di esperienze personali nel 1999 avevamo cominciato a fare l'almanacco di casabella era il secondo anno e qualcuno forse ricorderà facevamo un appello sulla rivista chiedendo agli architetti di mandarci delle immagini delle opere costruite è arrivata una busta con dentro tre fotocopie a colori di tre case una era la casa rizzi a san martino in monte che vedrete la prima immagine la seconda immagine che verner mostrerà di contesto una era la casa knoll di colsano un'immagine che non verne non ha mostrato ma che un'opera veramente bella e come le altre sue la terza era la casa ciò ma non la sua casa a laces io per un po di tempo considerato la casa rizzi un'opera troppo romantica non mi convinceva non mi piaceva non mi convinceva forse poi abbiamo sempre scherzato con verner di questo poi ho capito dopo quando lavorato su questa monografia anche invece il significato di questa casa nel lavoro di ciò volevo volevo pubblicare subito la casa knoll ma devo dire la verità ormai siamo grandi il mio direttore ha detto che non la voleva e voleva la casa ciò l'anno dopo abbiamo recuperato abbiamo rimediato abbiamo pubblicato la anche la casa knoll che sicuramente insieme alla casa rizzi rappresenta nella nella fase iniziale del lavoro di verner rappresentano questi due questi due interventi dei passaggi molto importanti comunque da quella volta dal 99 ho cominciato a seguire il lavoro di verner ciòl e anche per colpa sua o grazie a lui ho cominciato a interessarmi più in generale delle vicende dell'architettura dell'alto adige ho scoperto che ci sono diversi bravi architetti che lavorano in alto adige poi ho scoperto che loro avevano cominciato nel 1980 a fare delle cose che voi da qualche anno state facendo che sono gli appuntamenti dell'architettura le serate dell'architettura che erano delle iniziative come dire di coinvolgimento degli architetti ma anche in più in generale delle della comunità intorno ai temi dell'architettura invitavano come se ne parlava prima anche con verna come fate voi architetti da fuori architetti da fuori cioè dall'italia ma anche architetti della dell'europa e internazionali ancora secondo me nessuno ha bene spiegato perché ci siano dei così tanti bravi architetti c'è una concentrazione di bravi architetti nella nella zona dell'alto adige invocare la provincia autonoma non è sufficiente perché ci sono altre province regioni autonome in italia forse è bene piuttosto sottolineare il carattere di questo territorio che un carattere è un territorio di confine un territorio che si è sempre nutrito anche in epoca moderna di scambi e di influenze delle delle nazioni a nord e anche poi della di un rapporto anche se a tratti conflittuali con la cultura architettonica italiana del novecento vale forse anche la pena di nuovo sempre in questo in questo ambito non sto presentando ciò mi rendo conto sto parlando di cose generali adesso però stringo vale forse anche la pena però ribadire come forse quello che funziona e che ha funzionato molto in alto adige in questi ultimi anni è il ruolo diciamo così di non tanto in termini o non solo in termini di risorse economiche che la provincia ha investito come committente pubblico ma anche come promozione come interesse proprio per la divulgazione delle iniziative sull'architettura si sono fatte mostre si sono fatte tante iniziative e anche si fanno continuamente per le opere importanti concorsi per le opere pubbliche al punto che anche verne questo è successo ora ci sono anche i privati che fanno concorsi per scegliere un'opera per scegliere l'architetto per il proprio lavoro ci sono diversi bravi architetti però la storia di ciò le diversa secondo me ho scritto che ciò è un baumeister che una definizione un po impegnativa forse per me non per lui lui la pratica questa cosa è un baumeister diciamo così a una a un profilo quello del baumeister del maestro di costruzione potremmo dire che in qualche modo mi sembra sia riflesso nella corso e si possa leggere nel corso progressivo della del lavoro di ciò la partire dalla appunto dalla fine degli anni 90 in poi un baumeister come ciò lavora su un territorio circoscritto lo conosce in maniera approfondita lo percorre quotidianamente lo conosce in profondità che significa conosce i suoi caratteri non superficiali il rapporto con con la tradizione costruttiva piuttosto che con i luoghi con il paesaggio è qualcosa che guardando i lavori di werner choll come si sono venuti sviluppando dalla fine degli anni 90 in poi e forse si può capire come questi caratteri si siano impressi in profondità nella nella sua esperienza e come la sua esperienza di maestro di costruzioni si sia a mio avviso progressivamente diciamo divenuta definendo in questo rapporto con i luoghi in questo rapporto in questo confronto con ciò che i luoghi hanno le costruzioni antiche con cui choll più volte si è confrontato intervenendo dentro di esse o sopra di esse ma anche quei caratteri di un paesaggio particolare anche se non certo unico ma molto forte che sono che il linguaggio del luogo è il linguaggio delle montagne il linguaggio dei prati il linguaggio delle vigne cioè il linguaggio è il linguaggio che da un certo momento in poi i suoi lavori hanno iniziato a parlare smettendo di in qualche modo proporre secondo me sempre una riconoscibilità della forma dovuta a una ricerca che pure all'inizio c'era stata di un linguaggio astratto più astratto un equilibrio una ricerca sul linguaggio che cerca di tenere insieme modernità figure formali della modernità e tradizione e a un certo punto la riconoscibilità delle del suo lavoro deriva dall'offrire le forme dei suoi edifici da restituire le forme dei suoi edifici il linguaggio vero dei luoghi e la sapienza costruttiva che cosa non importante non è rilevante numerose occasioni di realizzare i propri progetti ha dato a ciò dico questo perché 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 c'è una frase che che mi piace qui citare e che di cui potete forse riconoscere la fonte anche senza che io la citi che e che penso che valga per vernerciol la forma non è il fine del mio lavoro bensì il risultato io penso che per i lavori di verner sia questo la forma che pure riconoscibile che pure c'è è il risultato di un lavoro è il risultato di una sapienza costruttiva è il risultato della conoscenza delle tecniche della costruzione della prefigurazione della lavorazione dei materiali della messa in opera dei risultati che tutto ciò avrà non è una ricerca sul linguaggio quella di ciò il linguaggio la forma le figure della costruzione sono qualcosa che stanno come risultato di un lavoro dico questo perché anche su questo abbiamo discusso con ciò ma anche su questo riconosco di avere dovuto riflettere per capire a un certo punto del suo lavoro compaiono delle figure a che apparentemente o superficialmente potrebbero essere apparentate a figure diciamo così di linguaggi alla moda oa forme diciamo così della del dei linguaggi architettonici di questa specie di nuova internazionalismo della non più razionalista ma così strano della della contemporaneità e invece come dire quelle forme quelle figure di questo sono profondamente convinto che sono le forme della cantina di termeno piuttosto che quelle dei padiglioni del passorombo hanno una ragione profonda nei luoghi in cui queste architetture sorgono perché parlano trasfigurato attraverso l'architettura attraverso la che è trovando sostanza attraverso la costruzione parlano il linguaggio di un luogo di quei luoghi ma ecco questo in questo senso un baumeister perché per definizione il baumeister non è interessato e questo di questo sono anche profondamente convinto per definizione il baumeister non è interessato a prefigurare le sue architetture che verranno attraverso come dire l'irrigidimento in un codice che si ripete del linguaggio il baumeister interessato a delle delle risposte alle ai problemi che la costruzione nel presente pone questo e questo sono convinto nel senso del lavoro di verner ciò ma potrete forse apprezzarlo meglio attraverso la sua presentazione grazie grazie marco spero di essere all'altezza grazie all'ordine architetti di varese per questo invito sono molto fiero di poter presentare il mio lavoro mi scuso sin dall'inizio del mio italiano sono di madre lingua tedesca e anche durante la conferenza qualche volta mi mancheranno alcune parole per questo ho portato tantissime tantissime immagini così evidentemente se mi manca la parola vi faccio vedere delle immagini poi è anche vero io non sono un grande teorico diciamolo così io lavoro diciamo in un territorio abbastanza stretto una cosa che logicamente mi piace essendo uno studio piccolo ho deciso tanti anni fa di di stare piccolo con al massimo due dipendenti perché volevo fare l'architetto non il manager di un ufficio grande ma volevo proprio fare il mestiere fino alla fine cioè io conosco ogni dettaglio dei miei progetti vado in tantiere e quindi questo ha naturalmente grandi vantaggi anche logicamente grandi svantaggi perché devo dire di no a tanti progetti che mi vengono anche proposti però gli svantaggi anche diciamo di lavorare in questo contesto un po limitato ha anche il vantaggio che uno deve proprio fare il suo meglio perché quasi ogni giorno passa davanti alle sue opere costruite e quindi per non doversi vergognare ogni volta e stare così bisogna anche cercare di fare il meglio così forse funziona il mio lavoro io vi presento alcune opere degli ultimi anni dal 2005 al 2012 questo è sbagliato ho lasciato via un ultimo lavoro quindi più o meno ogni anno finiamo uno due due lavori e vi presento dal 2005 uno dei dei lavori per un committente privato per cui abbiamo già lavorato in tante occasioni prima degli uffici selimax infatti abbiamo fatto la sua casa di ferie sempre nella valvenosta una quota di 1700 metri casa dei ferri casa rizzi costruita completamente in in pietra locale e dopo questo incarico c'è stato affidato anche il compito di di progettare i suoi uffici qui nel cerchio bianco si vede a fondo valle dove doveva sorgere l'edificio per gli uffici e sopra si vede la casa di abitazione e c'è questa funivia che va da valle al monte e lui aveva intenzione di lavorare giù in valle poi andare su ad abitare la sera purtroppo questo poi non ha funzionato e la casa è diventata casa di ferie però guardando giù diciamo dal monte si vedono queste queste linee dritte ortogonali nel paesaggio e forse questo è stato forse anche non cioè non penso che quando facciamo l'architettura pensiamo a queste cose questo magari lo scopriamo anche dopo qualche uno ce lo dice ah ho visto questo e questo torna nella tua architettura però le idee sono sempre idee diciamo istantanee c'è un'idea che mi viene in mente è un decimo di secondo e questo voi va seguito cioè non andiamo a cercare con disegni cioè l'idea del tutto mi deve venire in mente un diciamo un secondo e poi viene progettato e viene disegnato ecco queste linee riproposte nell'edificio e anche qui magari racconto una piccola storia perché tutti i nostri edifici penso che raccontano anche delle storie da bambino in questo proprio in questo posto dove si doveva costruire questi questi uffici volevano fare un pozzo adesso parlo degli anni 60 hanno cercato di fare questo pozzo a un certo punto siccome l'acces è un lago sotterraneo l'acqua è salita di 50 metri e non non si riusciva più a a chiudere il pozzo a quell'epoca e quindi questo per me come bambino e forse è stato anche una cosa impressionante e per questo abbiamo riproposto questo lago artificiale sotto questo questo edificio l'edificio in pratica è una produzione di frutta e di verdura che abbiamo nascosto sotto il terreno sopra abbiamo messo il lago di mille metri quadri e da questo lago spunta solo questo parallelepipedo degli uffici la pianta è una pianta abbastanza aperta col nucleo centrale e con l'ossatura ortogonale e verticale e orizzontale fuori diciamo dal 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 vetro che chiude gli uffici quindi una cosa noi la chiamiamo anche barocca perché non serve costa solo soldi però è bella ecco si vede questi questi uffici su quattro su quattro piani che siccome loro hanno una ditta import export devono sempre anche comunicare tra di loro attraverso voce non solo solo telefono quindi su ogni piano ci sono più o meno dieci ragazzi e ragazze che comunicano tra di loro nucleo centrale con con l'ascensore la scala e tutto intorno i posti lavoro quindi il posto lavoro rivolto verso l'esterno all'inizio il comitente è stato un po schettico se la gente logicamente essendo davanti un bellissimo paesaggio ci sta lì a far ferie e non a lavorare invece però penso che ha funzionato molto bene ecco questo l'edificio ha finito faccio un giro intorno quindi non è forse non è architettura è più scultura che architettura un edificio che non ha diciamo un lati sono tutti uguali è come una nave con un unico ponte dove si entra dove si porta la merce dove si dove si entra e tutto il resto è uguale sopra questo lago artificiale quindi tutti i lati uguali non si sa neanche dove dove si entra dove si esce se non ci fosse questo questo ponte sopra il lago questi elementi verticali orizzontali sono in vetro abbiamo fatto devo dire una grandissima fatica a trovare il colore perché dietro ci sono migliaia un milione di toni di di vetto di verde diverso e trovare proprio il verde giusto ci ha costato diverse diversi giorni di star lì con dei campioni di colore a trovare un po il colore giusto poi con tutte le riflessioni logicamente diverse e l'edificio è concepito così che di che di giorno è verde e si confonda quasi col col paesaggio di notte invece questa questa ossatura diventa nera cioè nel nel quando viene sera l'edificio interno è illuminato e di notte è illuminato dal dall'interno con luci di led e diventa una lampada perché l'edificio è proprio lì sull'ingresso del del paese è diventato diciamo un punto di riferimento per il paese per ognuno che ci arriva e forse questo edificio era uno dei primi che quasi piaceva a tutti perché forse l'hanno visto di notte e di notte era bellissimo per tutti e si sono non si sono più ricordati come lo hanno visto di giorno forse questa è una buona spiegazione logicamente parlare di colori in questa sede mi mette un po quasi in imbarazzo però lo faccio lo stesso questo edificio poi cambia i colori e siccome erano i primi let che sono stati forse usati in italia consumiamo pochissimo edificio praticamente fino a luna ogni giorno è illuminato con qualche giorno speciale quando a dei dei diciamo dei colori proprio speciali per questo questo giorno per esempio san valentino sempre rosso un'altra esperienza una delle esperienze che facciamo diciamo metà dei lavori sono recuperi noi li chiamiamo revitalizzazione non voglio parlare di risanamento o di ristrutturazione noi parliamo di rivitalizzazione perché pensiamo che un edificio o un'architettura ha solo senso se è in grado di vivere o di ospitare della gente e se no non penso che non si tratta di architettura che è sempre legato a una funzione diciamo umana in qualche maniera se no è scultura o è rudere che però non ha più il senso dell'architettura vera e propria quindi parliamo di rivitalizzare queste strutture vecchie firmiano doveva diventare il museo di rinold mesner della montagna e quindi noi quando siamo arrivati sul posto abbiamo trovato diciamo questo questo rudere con queste queste mura grandi sono sono mura di diametro o di spessore di cinque metri perché sono stati costruiti per i primi canoni dei veneziani che volevano fare la guerra diciamo al tirolo purtroppo o per fortuna non sono neanche arrivati al castello quindi è stato costruito inutilmente non ha mai avuto la sua funzione quindi anche nel passato queste cose succedevano non solo oggi quindi liberato quando l'avevamo trovato era tutto un bosco abbiamo liberato per fare anche le diciamo i rilievi ecco questo più o meno uno stato come lo abbiamo trovato con l'edera dappertutto e la pianta che in mezzo a questa questa grande collina quindi tutta tutta la cinta muraria è divisa in due cortili uno qui uno qui e in mezzo c'è questa questa montagna e questo ci ha aiutato anche a fare questo percorso di che anche rinold messner voleva gli abbiamo proposto di fare questo questo diciamo un un una specie di di camminamento intorno a questa montagna come diciamo nel tibet sia la montagna del kailash che non si può andare sulla cima ma si va solo solo intorno perché la cima è la sede dei dei e in questo caso abbiamo fatto la stessa cosa sopra c'era la cappella romanica e quindi anche lì abbiamo deciso di non andare far andare la gente sulla collina ma giriamo tutto intorno e quindi abbiamo in pratica lasciato tutta la rovina come l'abbiamo trovato come del resto facciamo sempre quando interveniamo su delle opere storiche cioè noi togliamo quello che magari qualche d'uno prima di noi ha aggiunto e ci sembra che non non è una cosa originale o non sta tanto bene in modo di avere la costruzione originale e quella non la cambiamo lì non interveniamo aggiungiamo il nuovo come diciamo non per imporci sul nuovo ma come la cosa temporanea cioè vogliamo che anche dopo un certo momento quando questa funzione non c'è più uno possa toglierlo magari con un grande elicottero e la generazione futura troverà di nuovo la stessa cosa come abbiamo trovato anche noi quindi non cambiamo niente e per questo forse sto dicendo qualche volta anche che non è importante per noi conoscere bene la storia perché la lasciamo lì quindi ognuno può anche andare a vederla se visita questo castello è inutile che lì lo diciamo noi quindi la può vedere anche nel futuro anche quando è già costruita l'opera dentro in queste torri quindi abbiamo messo delle costruzioni a sé stanti senza contatto con i muri vecchi abbiamo deciso siccome tutta la struttura che abbiamo trovata era di un unico materiale porfido rosso di Bolzano di rispondere con un unico materiale l'acciaio e quindi dopo l'intervento nostro dall'esterno non si vede neanche che siamo intervenuti infatti qualche di uno di Bolzano ci chiedeva sempre quasi l'opera già quasi finita ma quando andate quando cominciate con questo questo lavoro perché all'esterno non è cambiato ecco qui si vede forse bene dall'alto questi due corti e questa montagna sacra e si gira praticamente tutto intorno alle mura per poi ritornare all'uscita tutta la costruzione è stata diciamo prefabricata perché anche per motivi di costi quindi ci volevano dei rilievi esatti perché dopo tutto tornava perché tutti i muri storti e per fortuna avevamo veramente dei disegni dettagliati quindi conoscevamo ogni sasso per poterlo fare però ci ha potuto calare di molto i costi perché praticamente è tutto assemblato e questa è anche la volontà nostra che mettiamo dentro delle cose che con mezzi semplici sono da assemblare quindi usiamo quasi solo bulloni non è niente saldato bulloni quindi anche un domani con un cacciavite o con qualche attrezzo molto semplice si toglie la costruzione si toglie e l'acciaio si può riutilizzare dentro l'acciaio è lasciato nero per diventare un'ombra quindi non si nota al primo momento la nostra architettura si nota prima l'architettura esistente quindi la storia poi il secondo sono gli esponati di Reinhold Messner che lui poi ha appeso sui muri e solo al terzo sguardo si vede si vede la nostra architettura quindi gli ambienti sono sempre staccati dai muri questo questo ci dà anche la possibilità di avere la luce radente che arriva sempre dal tetto perché sul tetto poi ci sono dei setti in vetro e questo ci dà anche la garanzia che uno quando entra vede ancora il rudere cioè riesce a vedere tutta l'altezza dell'edificio fino fino al cielo perché c'è sempre questi setti di vetro sui muri esterni e quindi tutto l'inserto è praticamente un palcoscenico che poi Reinhold Messner poteva utilizzare per il suo museo ecco tutto tutto nero all'interno tutte le strutture a sé stanti tutte le infrastrutture sono dentro in queste nostre strutture tutti i buchi che abbiamo trovato non abbiamo chiuso niente quindi abbiamo lasciato lì come lo abbiamo trovato non abbiamo neanche rispettato i piani originali perché se si vedessero meglio quando uno va a visitare dove era l'originale una volta tolta il resto rimane come l'abbiamo trovato noi davanti un po questa idea anche di di proporre questa vertigine perché un museo di montagna quindi uno quando quando va a visitare il museo ha anche questa avventura di andare su andare giù e per proprio anche dare una fatica il percorso se uno vuole se uno lo fa tutto fa 400 metri di dislivello andando su e giù delle torri ecco all'interno nero ogni torre naturalmente diversa con delle soluzioni di scale di accessi di ponti diversi l'uno dall'altro sempre palcoscenici diciamo per Messner per appendere poi i quadri mentre all'esterno la struttura è stata sempre in acciaio però si lascia iruginire per adattarsi a questo profido rosso che abbiamo trovato quindi niente che una specie di 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 scale di rampe per accedere per salire per per dislivello per per gli dislivelli sempre appoggiato sopra la roccia o sopra i muri senza contatto diretto o sui camminamenti o sul pavimento senza senza vetrate anche se dentro dietro sono grandi vetrate per illuminare questi 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 torri però sempre rivestito con questa lamiera stirata per nascondere diciamo riflessi delle grandi vetrate questo è un anfiteatro scavato o tagliato dalla dalla roccia qualche edificio nuovo che abbiamo inserito anche anche questi edifici sono dei corpi piccoli rivestiti sempre col col l'acciaio con la lamiera stirata e lasciata iruginire questa è un'esperienza una delle diciamo poche esperienze che ho fatto fuori del 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 mio paesaggio del mio terreno la mondadori a milano devo dire che è stata logicamente per me una grande sorpresa quando dal coro mi chiamò nel 2004 mi sembra chiedendomi se avevo voglia di fare questo edificio per per la mondadori naturalmente quando sono andato lì la prima volta devo confessare che quasi mi sono spaventato un pochettino vedendomi davanti a questo edificio diciamo faboloso di di niemeyer io da montanaro che venivo lì a milano dovevo cercare di proporre qualcosa davanti a questo a questo maestro io ho preso la sfida e vediamo cos'è cos'è uscito cioè questo era la cascina come l'abbiamo trovata con questo cortile interno e abbiamo proposto di lasciare la cantina cioè la lasciare la cascina la casa padronale al centro di riproporre di nuovo la corte interna agacciando agacciandoci alla questa cascina vecchia con delle dei corpi in vetro che sono affiancati da questa la mia da questa lastra continua sia di pavimento che di tetto in in lamiera e lasciando una grandissima apertura non solo per per l'entrata ma anche per fare reverenza all'edificio di fronte di di niemeyer quindi questa grande finestra che dal cortile si apre verso verso l'edificio del maestro la vecchia cascina dove ci sono diciamo le sale riunioni poi le le due alle con ali completamente vetrate su due piani spazio open space con pochi poche zone diciamo delimitate a uffici il resto quasi tutto open space il progetto che l'opera finita queste due diciamo l'ammiere che non hanno inizio che non hanno fine quindi una una cornice continua che fa da pavimento e anche da tetto con dentro il vetro e questa grande apertura verso verso il di maio l'ingresso attraverso questa grande apertura e attraverso questo questo ponte sopraelevato si arriva prima alla cascina e poi da lì si entra nelle ali quindi l'unico ingresso è proprio quello principale della della cascina ecco dall'altra parte questo questo ingresso sopra sopra il prato per accedere alla cascina e questo il vano distruttorio dentro nella cascina che porta alle due due ali questa è un'altra esperienza di ristrutturazione che abbiamo fatto nel 2008 finito il piccolo museo di monte maria uno dei più importanti monasteri della nostra zona dell'alto adige e lì c'è stato chiesto di fare un piccolo museo perché la cripta che è una delle delle opere diciamo molto importanti del dell'epoca romanica per gli affreschi che ci sono e siccome c'era troppa gente loro volevano limitare l'afflusso alla cripta e però proporre questo piccolo museo così la gente almeno poteva godere un film e godere di questa cripta fuori dalla cripta e adesso che adesso è solo accessibile quando i fratti fanno la messa o le preghiere dentro quindi accesso limitato anche qui siamo diciamo in un in un edificio del mille cento di origine del mille cento e tutta questa ala qui dove c'erano il laboratorio dei dei frati lo abbiamo trasformato in questo in questo museo il problema che che c'era era che questo edificio è stato diciamo chiuso su due piani da una grande da una grande frana e quindi loro non avevano più i mezzi per togliere tutta la terra una volta l'edificio andava fino a fino fino a zero noi poi con i nostri mezzi abbiamo riproposto di scavare tutta la zona ritostante a queste officine per poter dare diciamo un passaggio continuo e un percorso continuo dentro dentro nel museo il tema lì cioè ci sono varie sale destinate a una storia diciamo dei dei benedittini con delle sale conferenza ai primi piani poi con delle camere per gli ospiti all'ultimo piano con diversi qui praticamente l'ingresso e poi si accede attraverso questa questo corridoio e poi si si va ai ai poi al primo piano e poi si esce di nuovo sul cortile anche qui il tema diciamo l'abbiamo preso un po dal dall'abito dei benedittini bianco e nero che abbiamo seguito sin dall'inizio anche lì tutti gli elementi interni sono in acciaio nero o in vetro bianco anche qui magari faccio un piccolo un piccolo giro l'esterno non è stato cambiato abbiamo solo tolto queste questi merli erano chiuso con con dei legni abbiamo tolto i legni abbiamo rialzato un pochettino il tetto per lasciare liberi i merli abbiamo inserito questi questi balconi davanti alle camere degli ospiti che sono tutte le tratte dietro quindi una bellissima vista sul paesaggio e quindi scuro dietro quindi i merli risultano in primo piano e i parapetti in vetro per non lasciar cadere la gente quindi la struttura è rimasta quella che abbiamo trovato quando siamo venuti questi balconi con la facciata con la facciata arretrata quindi ogni camera ha una grandissima vista sul sul paesaggio anche qui l'interno rimasto come l'abbiamo trovato inserendo solo degli elementi in vetro per lasciare proprio anche la vista di questi di questi muri spettacolari mediovali senza intervenire direttamente sui muri faccio un piccolo giro per darvi un po una immagine questo per esempio questo corredoio che abbiamo che abbiamo scavato dietro con con dietro tutti gli ambienti accessori e altre stanze per per il museo con i balatoi su tre piani quindi anche qui in questo caso dal basso si vede tutta l'altezza dell'edificio per capire che una volta questo edificio era un fronte esterno con le esposizioni anche queste in acciaio nero e il resto vetro bianco anche i pavimenti in cemento nero questa tavola è una tavola lunga su tutto il muro che racconta un po la storia del monastero sin dagli inizi bagni anche questo molto semplice molto grezzo tutto in cemento questa è una sala dove abbiamo diciamo all'interno abbiamo cercato di di nascondere le aperture siccome sono delle delle sale adibite a museo che però lasciano intravedere un po queste queste finestre originali però diciamo sfumate attraverso queste queste grandi vetrate bianche traslucide anche qui scale balatoi sempre in acciaio nero si passa proprio diciamo davanti alla storia uno quando quando prende questa passerella proprio viaggia davanti a questo questo muro vecchio del medioevo e riesce anche a capire in questo caso ecco proprio si vede che che intenzione abbiamo cioè non tocchiamo il vecchio quindi uno anche fra dieci anni può fare questa inserienza che abbiamo trovato noi quindi dietro dove abbiamo scavato anche tutta quella parte lì abbiamo fatto un pozzetto che abbiamo poi rivestito con vetro bianco quindi la luce scende dall'alto e illumina tutto tutto la parte rettrostante con queste grandi vetrate bianche all'interno anche qui si vede un po questa questo dietro praticamente è tutto è un pozzetto che ha però la luce naturale dall'alto queste le stanze degli ospiti sopra col corridoio in questo monastero adesso stiamo facendo abbiamo già fatto altri lavori all'interno però la prossima grande diciamo avventura sarà la biblioteca per per questo monastero che adesso partiamo fra fra un mese progetto esecutivo approvato partiremo appena la neve va via nel cortile c'è ancora tanta neve appena la neve scompare partiamo con i lavori e sarà un lavoro diciamo della biblioteca che è una delle biblioteche più importanti della nostra zona però sono adesso tutti questi libri sono dentro nel monastero in ambienti che non sono più adatti alla conservazione di questi libri quindi abbiamo dovuto proprio cercare di fare degli ambienti nuovi per questa biblioteca l'abbiamo trovato in questo grande cortile che andiamo a interare su due piani quindi dopo il nostro intervento non si vedrà più nulla scaviamo due piani e facciamo questa biblioteca sotterranea mentre la vecchia cappella che è questa dove cento anni fa hanno tolto completamente uno un muro a sud che poi diventava diciamo una una come si dice una remisa cioè un quasi dove dove c'erano degli attrezzi quindi hanno tolto completamente questo muro questo per noi forse adesso è stata anche una fortuna perché la possiamo chiudere con vetro e quindi abbiamo una bella atmosfera dentro nella cappella che gli altri muri adesso nel frattempo abbiamo fatto già il restauro e sono diventati veramente belli con tutti gli affreschi sotto che abbiamo trovato e quindi questo diventerà la sala lettura perché la questa biblioteca sarà aperta poi anche al pubblico fuori ci sarà questa sala di lettura e sotterraneo ci sarà il magazzino dei libri vi faccio vedere solo qualche qualche immagine di progetto come si presenterà alla fine il muro che manca lo chiediamo con un vetro bianco si è rigraffato adesso qua forse non si vede bene che poi avrà la tessitura dell'intonaco con una foto dell'intonaco vicino quindi sembrerà intonacata però avendo usato il materiale diciamo il vetro sarà anche visibile che è un intervento nuovo con questa scala in vetro che poi porta al magazzino questa è la cappella ristrutturata con i vetri bianchi anche all'interno lasciando solo aperto alcuni diciamo posti dove si può vedere fuori questo è l'ingresso poi ai magazzini sotterranei questo sarà il magazzino sotterraneo con dei scaffali anche qui in acciaio nero con una scritta illuminata retroilluminata incassata nel cemento nella parte centrale con un testo di Goswin del 1400 che è un testo diciamo che è ancora attuale lui quando parlava del suo tempo ha fatto proprio queste parole che noi possiamo riutilizzare per questa biblioteca un'altra esperienza della cantina Tramin anche per me nuova diciamo è la prima cantina che abbiamo fatta nel frattempo c'è una seconda cantina a Merano che abbiamo finito proprio mezzo anno fa anche qui il paesaggio penso che è stato alla fine l'idea che ha portato a questo progetto per me questa zona quando sono andato lì era un concorso la prima volta anche per me era un po' conosciuto e mi sono proprio affascinato da questi tappeti enormi di viti che si straiano proprio davanti al paese di Termeno questo era il posto dove bisognava ristrutturare o rivitalizzare la cantina vecchia che esisteva già quindi una vista spettacolare sul lago di Caldaro e su tutti questi vigneti davanti e quindi l'idea questa era la cantina come l'abbiamo trovata e bisognava ampliarla il concorso noi forse l'abbiamo vinto perché eravamo gli unici che non hanno sprecato terreno rispetto a quello che c'era già perché loro pensavano che non tutto il volume che volevano fare non ci stava entro il loro terreno e quindi avevano già comprato un ettaro davanti alla cantina e pensavano di fare l'ampliamento lì invece noi avevamo, cioè a me mi sembra che è proprio, siamo arrivati alle ore 12 nell'Alto Aigis non possiamo più permetterci di sprecare terreno agricolo perché è il nostro capitale e quindi bisogna per forza cominciare a riutilizzare quello che abbiamo, quello che è esistente al posto di cominciare o di continuare a costruire sempre ex nuovo in questi bellissimi posti e quindi forse questo è stato anche l'idea che è piaciuta al comitente che ci ha fatto vincere il concorso perché all'inizio non ci credevamo neanche che un progetto di questo genere poteva vincere un concorso diciamo in questo paese di Termeno che è diciamo una zona abbastanza conservativa con contadini e quindi l'idea era anche abbastanza, forse anche esagerata e invece ha piaciuto subito anche a tutti i contadini quindi questa è la cantina come l'abbiamo trovata e quindi si vede l'edificio l'edificio diciamo non è una grande architettura però per noi diciamo ogni architettura ha un valore anche se non è architettura diciamo grande però quando hanno fatto questa cantina centinaia di contadini ci hanno messo i soldi ci hanno messo il cuore per costruire questa cosa e allora ci sembra non doverla abbattere però riutilizzarla, rivitalizzarla e infatti poi è diventato il cuore del nostro ampliamento il tema è la vite che abbiamo trovato diciamo andando a spasso ho visto queste ombre sul terreno e da lì è nato praticamente questo progetto la vite che esce, che nasce dal terreno e comincia a rampicarsi sul nostro edificio nuovo e si rampica tutto intorno e diventa la nuova forma dell'ampliamento si vede la cantina vecchia rimasta dietro questo il corpo centrale di ingresso e le due ali sulla strada che sono state aggiunte a questo complesso storico non vado a commentare troppo le piante quindi abbiamo aggiunto tantissimi vanni e qui si vedeva già i primi schizzi diciamo della vite che nasceva dal terreno e circondava tutto l'edificio questo è il disegno che abbiamo proposto per il concorso e questo è il risultato finale anche noi ci siamo, quando l'abbiamo visto finito ci siamo resi conti che non abbiamo cambiato proprio nulla è rimasto come abbiamo presentato il concorso e quindi quando abbiamo vinto il concorso ci sembrava, o logico, la commissione era, diciamo c'erano tanti architetti nella commissione quindi poteva anche piacere poi quando è andato nell'assemblea generale c'erano 200 contadini davanti a noi e abbiamo dovuto presentarlo abbiamo presentato così solo con dei render senza far vedere le piante e hanno deciso 99,9% di realizzare l'edificio adesso si presenta così fuori c'è questa vite anche questo diciamo barocco non serve a niente è solo bello che circonda tutto l'edificio dietro tutta la facciata in vetro con schermo solare quindi diventa abbastanza scuro e nero e non si vede neanche quindi fa esaltare di più questa vite che circonda l'edificio di notte invece anche qui in questo caso la struttura diventa scura e tutto il resto all'interno è illuminato e si vedono gli spazi interni qui abbiamo fatto una separazione netta tra sale di accoglienza per il pubblico e tutti i vani dei contadini che sono nascosti anche qui sotto terra così queste due ali si aprono come delle braccia aperte al pubblico per ospitarli per dargli il benvenuto questa struttura è sempre diciamo a diverse distanze dal vetro interno in modo da anche dall'interno vedere sempre questa struttura che fa delle immagini proprio sul paesaggio lo spezza e allo stesso tempo si è in grado di vederlo quasi meglio che senza avere queste cornici che lo circondano l'interno è tutto in rovere e anche qui vedete che è un tema che ci piace molto usare il colore nell'architettura questo per esempio è il vanoscale che scende alle cantine che è in lamiera anche qui stirata quindi trasparente in altezza di 12 metri con questa luce gialla che ricorda un po' il vino bianco per scendere alle cantine che poi sono dei toni rossi quindi anche qui la luce bianca che serve per lavorare quando la luce bianca è spenta tutta la cantina è praticamente in un colore di rosso questa è la baricaia un'altra baricaia quindi anche qui i costi limitati quindi tutta una struttura in cemento solo dipinta e poi con la luce resa diciamo un po' nobile però con costi quindi limitati senza usare materiali pregiati o diciamo definizioni che costano soldi questa è una vetrata serigrafata questa è un'immagine come si presenta di notte quando si passa davanti quindi anche questo siccome è il primo edificio che si trova quando uno entra a Termeno è diventato un punto di riferimento per tutto il paese anche per il territorio a me questa foto mi piace moltissimo perché fa vedere un po' questo rapporto col paesaggio diciamo queste due architetture mi sembra stanno bene insieme questo è il castello Furstenburg che è una scuola agraria che abbiamo ristrutturato nel 1998 mi sembra finito o 9 era diciamo un castello che era usato sì dagli anni 50 come scuola agricola per la provincia di Bolzano diciamo c'erano dei tentativi perché c'era gente che diceva non si può avere una scuola dentro in un castello del genere non funziona quindi bisogna costruire una scuola nuova insieme al direttore abbiamo lottato per lasciare la scuola dentro nel castello ci siamo riusciti ad avere il successo che poi si poteva fare la scuola dentro in questo castello e forse c'è venuto anche incontro un po' questo crollo della torre nel 94 la torre è crollata dentro nel cortile mentre i ragazzi c'erano ancora lì c'erano 100 ragazzi perché questa è una scuola che è anche alloggio quindi vivono 100 ragazzi vivono dentro nel castello la torre è crollata a mezzanotte nessuno si è ferito neanche le macchine che vedete giù nel qua dentro le masse delle rocce si sono fermate prima neanche una neanche una macchina rotta e questo è stato poi diciamo il punto di partenza per ricostruire il castello che non faccio vedere però vi faccio vedere questi sono degli interventi che abbiamo fatto dentro il castello queste sono diventate delle camere per gli studenti quindi anche qui tutto reversibile in acciaio senza attacchi ai muri vecchi struttura in questo caso acciaio zincato perché tutta la struttura era grigia diciamo sassi grigi anche qui questi profili di acciaio nascondono dall'esterno non si vedono mai queste grandi facciate di vetro la scuola ha avuto un enorme successo quindi siamo partiti con 80 90 o 100 ragazzi all'inizio e nel frattempo sono 180 ragazzi che frequentano questa scuola e quindi c'era bisogno di ampliare la scuola all'esterno siccome dentro non c'era più più posto però siamo proprio in un posto delicato come vedete qui aggiungere un nuovo volume di 15.000 metri cubi che ci era stato chiesto a noi ci spaventava diciamo perché non c'è solo questo castello sotto però c'è anche l'avazia che avete visto prima dove siamo intervenuti col museo quindi costruire 15.000 metri qua in 15.000 metri cubi tra queste due preesistenze abbiamo detto nothing is better quindi meglio non fare niente e questo l'abbiamo fatto abbiamo nascosto questi 15.000 metri cubi sotto sotto terra anche questa è un'avventura che nessuno ci credeva la sovrintendenza ce l'ha bocciato la tutela del paesaggio ha detto di no la provincia anche non era tanto convinta anche lì devo dire il direttore che ha lottato per questo progetto come un leone e alla fine siamo riusciti a poterlo realizzare adesso sono tutti contenti perché vedono che anche le scuole ipogee possono funzionare abbiamo proposto di fare nel pendio scavando tutto il pendio mettiamo dentro l'edificio su tre piani facciamo tre grandi corti che poi illuminano all'interno tutte le aule tutti gli spazi abitativi chiudiamo tutto con terra e non si vedeva più niente però l'edificio dentro c'era ecco si vede un po' una sezione dove abbiamo nascosto tutto l'edificio dietro nella collina quindi questo un po' anche per vedere i rapporti questa è la grandezza del castello e questa è la grandezza quindi questa è una lunghezza di 150 metri 30 metri di larghezza su tre piani con tutte le aule che stanno intorno ai cortili inseriti nel pendio cioè tutte le aule che servivano per l'aumento di questi questi ragazzi sono stati costruiti dietro il castello poi tutto chiuso di nuovo col verde e questo è lo stato finale dopo l'intervento quindi dietro si vede solo questo muro d'ingresso sopra la collina verde che adesso intanto è diventata proprio una collina come un prato come era prima anche dall'alto cioè non è visibile si vedono questi tre buchi dall'alto questo muro in pietra naturale che contiene diciamo il primo piano quindi siamo in una zona veramente ancora agricola ci possono ancora passare le mucche davanti questo è l'ingresso principale alla scuola sopra la collina le corti dall'alto c'è sempre anche dall'interno del tutto il complesso si vede sempre l'esterno si vede sempre la torre ognuna di queste corti ha un colore diverso per essere anche riconoscibile questa è la hall d'ingresso qui si va al primo piano e si scende ai garage e alle aule sotterranee tutta la costruzione in cemento con questi solar tube che aiutano ad illuminare anche i corridoi quindi non serve accendere la luce anche di giorno infatti le donne della pulizia quando avevamo finito mi chiedevano sempre dove si spegne la luce perché era così illuminato e non c'era da spegnere ambienti interni dietro abbiamo lasciato a vista la roccia anche lì abbiamo fatto un'installazione di luci quindi queste nicchie con questi con questi setti di cemento che contengono diciamo tutta la roccia dietro illuminate in diversi colori così i scolari o i ragazzi quando passano davanti hanno un po' anche questa sensazione di arte o di colore quindi su tutta la lunghezza del corridoio c'è sempre questa luce artificiale che fa anche vedere diciamo tutta la roccia retrostante cortili interni ancora con le aule l'aula magna sala computer questa è l'aula degli insegnanti ognuna di queste stanze logicamente ha sempre queste grandi vetrate che vanno verso il cortile questa è una delle esperienze diciamo degli ultimi anni di Passo Rombo dove ci hanno chiesto prima di fare un diciamo un progetto di uno studio di fattibilità che poi è finito in un concorso che abbiamo vinto e forse anche anche questo progetto l'abbiamo vinto perché abbiamo proposto forse una cosa anche non usuale vi faccio vedere solo delle delle immagini così del paesaggio che abbiamo trovato dove siamo poi intervenuti quindi una strada con tante serpentine con i ghiacciai però anche con con queste rocce quindi tutto questo paesaggio per noi quando anche anche questo è una terra diciamo sconosciuta per noi perché non è che vado sempre in montagna quindi quando sono andato la prima volta mi ha colpito proprio questa questa cosa che tutto quello che si vede è scultura cioè tutte le cime tutte le rocce tutte cioè è proprio scultura anche anche proprio fisicamente scultura e abbiamo detto che vogliamo riproporre questa architettura non come architettura ma come scultura di nuovo archiscultura usando però anche proprio i mezzi di questi di questo paesaggio che abbiamo trovato quindi usare i colori del 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 paesaggio e abbiamo trovato diciamo il materiale adatto per questo per questi lavori nel cemento colorato alla fine abbiamo proposto di fare cinque stazioni quindi dei padiglioni informativi lungo la strada perché dalla parte dell'Austria si voleva festeggiare i 50 anni della strada di costruzione della strada e quindi diventava un progetto diciamo tra l'Austria e il Sud Tirolo Nord Tirolo e Sud Tirolo lo facevano insieme due stazioni sulla parte italiana due stazioni sulla parte austriaca e un museo del passo che abbiamo proposto come una struttura forse ve lo ve lo dico quando andiamo a vedere anche le immagini come una struttura che non faceva più vedere il confine tra l'Austria e l'Italia quindi il confine deve scomparire completamente però forse ve lo dico quando siamo quindi abbiamo proposto queste cinque strutture però anche queste i temi sono tratti dal paesaggio come detto prima questo i granat che sono proprio queste pietre preziose che in questa valle si trovano non so come si chiama in italiano sono queste pietre rosse granat si chiamano e quindi niente abbiamo riproposto proprio questo granat come come architettura come scultura e quindi questo il progetto di questo granat su questo grande pendio sopra sopra mosso che anche anche questo è diventato diciamo un segno per il paese anche per la valle passiria questo è il progetto finito quindi questi due granat uno in cemento uno in vetro vetro rosso che di notte è illuminato illuminato proprio su questo pendio di 100 metri sopra il piccolo paese di mosso questo è un padiglione di informazione dove la gente che sale sul passo può avere dell'informazione sulla strada sugli hotel o anche sulla storia che vogliamo raccontare qui una struttura in cemento a vista fatto con i pannelli truciolari usb con tutti i segni del legno dentro diventa un sasso nel tempo con questa struttura in vetro anche questo ripropone il granat che di notte poi e questo è un punto diciamo dove si va sullo sbalzo per vedere in fondo il paese se uno non ha la vertigine questo è l'interno dove raccontiamo anche qui la struttura in cemento all'interno ognuna di queste cinque stazioni ha un colore diverso questo è il granat è rosso poi man mano salendo cambiano anche i colori dove raccontiamo un po' la storia del paese del paesaggio negli avvenimenti così la gente si può informare però non è obbligata a fermarsi sono delle strutture diciamo che seguono o che accompagnano il viaggio se uno vuole approfittare può però non è costretto sono sempre aperte non c'è da pagare quindi sono le strutture aperte accessibili a tutti anche qui il tema diciamo del binocolo di guardare di vedere meglio il paesaggio di andare su andare giù in montagna e scendere e quindi è nato questo oggetto con questi due binocoli uno che va uno che sale uno che guarda verso il ghiacciaio e uno che scende verso la valle si può entrare liberamente sono solo delle cornici in cemento però anche lì abbiamo visto che la gente accetta queste cose perché anche lì eravamo un po' scattici all'inizio se magari la gente che va sul passo potrebbe anche rifiutare queste diciamo sculture grezze in cemento però abbiamo visto che viene anche accettato e viene anche capito come l'abbiamo inteso noi proprio di dare diciamo una immagine concreta e diciamo incorniciata del paesaggio per capire meglio questo paesaggio cioè qui per esempio adesso forse si vede magari in un'altra fotografia si vede meglio è proprio incorniciato un pezzo di paesaggio quindi uno vede proprio quello che gli vogliamo far vedere e quindi forse capisce perché se no tutto questo paesaggio è troppo spettacolare non lo vedi neanche più così concentrato forse intendi meglio cosa vogliamo far vedere questo per esempio il controbandiere perché questa zona era una zona diciamo dove si faceva con tanti controbandieri di grappa sigarette quindi anche questo volevamo far vedere il progetto dove abbiamo proposto un cubo enorme di cemento con questa sagoma di controbandiere che entra da una parte e che esce dall'altra quindi un cubo in cemento enorme con questa sagoma di controbandiere si entra anche qui in questa struttura di cemento e questo in questo caso è nero come il colore del controbandiere è nero e anche lì raccontiamo un po' di questi controbandieri della storia della zona uno può entrare da una parte e esce dall'altra anche le capre e tutti gli altri animali entrano e escono liberamente ho visto questo è un altro punto informativo dalla parte dell'Austria Steg anche qui un aggetto grande di sbalzo dove invitiamo la gente di andare sopra il pendio per esplorare diciamo la valle quindi si esce 15 metri e anche qui dentro raccontiamo la storia diciamo del paesaggio circondante questo è il museo sul passo e qui forse vi racconto solo una breve storiella perché mi sembra anche interessante quando abbiamo fatto questo progetto volevamo far sparire il confine abbiamo detto noi costruiamo sulla parte dell'Austria fondiamo la costruzione nell'Austria e la facciamo aggettare nell'Italia abbiamo fatto così senza fare senza diciamo chiedere niente l'Austria devo dire loro sono molto più diciamo disponibile per l'architettura non hanno fatto grandi storie siccome abbiamo costruito in Austria devo confessare che costruire lì è una cosa facile io sono andato nel comune lì a solda una volta perché pensavo devo presentarmi se no non sanno neanche chi sono tutto il resto pdf al comune dal computer non ho visto nessuno né per concessione né per licenza d'uso solo per dire quindi abbiamo pensato cosa facile costruiamo siamo in piena costruzione greggio quasi quasi finito atterrano due elicotteri neri proprio lì vicino escono gente ben vestita e ci dicono ma guardate questo non si può fare voi siete sul territorio italiano e quindi dovete rispettare le distanze di 5 metri dal confine italiano il terreno era di un contadino lì amico di qualcuno che ha detto costruite come volete e allora però dopo devo anche dire sono stati molto gentili ci hanno chiesto tutti i rilievi che abbiamo fatto loro sono intervenuti un'altra volta hanno fatto i loro rilievi e adesso magari fra 100 anni qualcuno quando questa costruzione non c'è più qualcuno si mi rivelerà come mai il confine ha questo naso di 5 metri perché prima era un confine il dritto adesso hanno cambiato il confine per questo edificio il confine non è più dritto ma ha questo naso di 5 metri intorno al nostro edificio quindi è andata anche bene prima quando ho visto questa gente uscire dall'aicottero pensavo magari adesso mi portano via quindi anche qui l'edificio diciamo proprio tolto dalla natura questo è il primo schizzo che noi almeno lo vediamo dentro in queste montagne primi primi approcci all'edificio quindi fondato qui nell'Austria confine e poi aggettante e questo l'edificio costruito aggetto di 16 metri una specie anche qui di cannocchiale con un'entrata e un'uscita cioè vetrata questo delle immagini o delle impressioni invernali anche qui tutto cemento con queste lastre osb questo è l'interno che fa la reverenza diciamo ai costruttori della strada dove facciamo vedere come un ghiacciaio con dei vetri retroilluminati tutta la storia della costruzione della strada con i mezzi che a loro volta avevano a disposizione per fare questa strada quasi tutto diciamo opere a mano e qualche impressione di quindi questa l'intenzione scultura scultura qui scultura qui questo qui si vede questo è l'ingresso e si vede attraverso si vede proprio dietro anche questa questa costruzione punta su una una montagna quando si entra si vede proprio solo questa questa montagna davanti una montagna bianca questa è l'ultima cosa che vi faccio vedere 2012 finita è una destilleria di vischi la prima destilleria di vischi in Italia quando il comitente è venuto da me e mi ha chiesto di fargli una destilleria di vischi vischi ho pensato facesse uno scherzo all'inizio però dopo abbiamo capito che non che questo uomo non scherza e allora abbiamo cominciato insieme questa avventura devo dire un'avventura perché tutti e due non abbiamo mai lui lui per la prima volta fa vischi io la prima volta che devo costruire una destilleria quindi era veramente un'avventura siamo in questa zona che era diciamo il granaio del Tirolo questo diciamo nel medioevo era tutto grano quindi c'è questa storia del grano in questo territorio quindi non è un'idea assurda e lui cerca di riproporre c'è ancora dei campi di grano adesso e questo signore cerca di diciamo di impedire come vedete qua queste cose dove sotto ci sono le ciliegie dove ci sono i meli che col clima che diciamo con la temperatura che ci sta alzando i meli e le ciliegie crescono sempre più in alto e quindi vanno a diciamo a invadere questo territorio bellissimo che è praticamente definito da questi prati da questi rappezzamenti di queste cose piccole col grano e dopo avere queste cose qua cambierebbe secondo me anche secondo me diciamo in modo eccessivo tutto questo paesaggio quindi lui con questa iniziativa cerca anche di riprodurre che i contadini possano di nuovo coltivare il grano quindi non per l'architettura io penso che questa idea del whisky sia più interessante e più importante proprio per questo aspetto di impedire che il paesaggio cambia in un modo negativo anche qui l'idea bella che lui usa i bunker che sono macchine da guerra però funzionano perfettamente per stoccare poi il whisky per farlo stagionare perché sono sempre umidi e sono sempre a 10 gradi quindi condizioni proprio perfette per il whisky quindi anche queste strutture riutilizzate quindi rivitalizzate macchine da guerra che diventano edifici per il whisky questo è il primo single malt italiano che dobbiamo dire l'anno prossimo sarà il primo whisky perché whisky deve stagionare tre anni per poter chiamarlo whisky nelle botti di rovere qui la zona dove dovevamo costruire una zona periferica al villaggio di 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 glorenza una zona artigianale anche qui abbiamo cercato di di nascondere la maggior parte dell'edificio la grandezza dell'edificio sottoterra e fare emergere solo la struttura diciamo una struttura più piccola tutta la produzione interata sottoterra si vede qui quindi tutta la proprietà che avevamo a disposizione è interato e poi emerge questo cubo da questa da questa produzione interata il tema qui anche i granai o diciamo i fienili vecchi che hanno questo sistema di ariazione con un mattone sì uno no questo lo abbiamo riproposto diciamo con un tema un po' più moderno con dei mattoni che abbiamo fatto fare apposta perché non si trovavano in commercio murati poi da bravi muratori perché devo confessare è una cosa molto complicata di averli perché sono tutte solo incolate cioè non abbiamo potuto usare la malta ma abbiamo dovuto usare solo la colla quindi avere tutto a un livello e le strisce verticali sempre perfette era proprio devo dire un capolavoro di questi giovani artigiani anche gli attrezzi per metterli in opera li se li hanno costruiti perché ogni mattone pesava 45 chili e questo è il risultato un cubo completamente realizzato in mattoni uno sì uno no quindi una cornice esterna che racchiude tutto l'edificio interno questa idea l'abbiamo anche proposta perché come ho detto prima era un'avventura non sapevamo neanche cosa andavamo incontro quindi abbiamo detto dobbiamo cercare di costruire una costruzione che ci permette allo stesso tempo di cambiare all'interno quando vogliamo quindi anche in fase di esecuzione all'interno possiamo cambiare quando vogliamo quando abbiamo la necessità quando capiamo che qualcosa non va bene possiamo cambiare all'esterno rimarrà sempre uguale e quindi questa tutto questo questo manto esterno che anche qui diciamo non ha facciate tutte le facciate sono uguali faccio un giro intorno che però si intravede secondo le ore del giorno con la luce dietro l'unico buco grande che abbiamo fatto è il buco per l'abitazione del proprietario all'ultimo piano con questa enorme terrazza che ha davanti alle sue vetrate all'interno con questo logicamente splendido splendida vista verso il paesaggio anche anche le porte sono state chiuse quindi quando la destilleria è chiusa non si riesce ad entrare si apre e si entra all'interno l'interno si presenta così con queste luci spettacolari che poi si riflettono sui vetri che sono stati usati per le facciate interne questo è l'accesso all'ingresso anche qui dalle viste poi con tutte queste riflessioni sono veramente si possono fare veramente delle immagini abbastanza interessanti questo è l'interno anche qui tutto cemento grezzo con queste con queste lastre osb e mobili in acciaio nero pavimenti grezzi e qui si vede un po' questo questo filtro di luce che si ha all'interno quindi una luce veramente dolce interessante che cambia secondo secondo l'andamento del sole lascia vedere fuori però non diciamo completamente fa delle piccole piccole immagini piccole cornici al paesaggio dove si entra si intravede già il piano di produzione quindi queste grandi lanterne in vetro danno anche la possibilità di avere la luce naturale al piano interato dove si lavora qui poi ci sono questi percorsi per la gente perché lui fa vedere fa delle visite guidate alla destilleria così la gente può fare questi camminamenti queste le cantine qui è una cantina ancora un po' più tradizionale dove poi adesso viene ci sono le botti e le sale di rappresentanza di degustazione dove di nuovo è proposto lo stesso tema anche dell'esterno quindi sala di degustazione con questi mattoni uno sì uno no retroilluminati anche i pavimenti in in mattone e questo l'edificio di notte grazie grazie